Misteri, Casoria comincia come aveva finito l'anno, con una vittoria, peraltro importantissima su un campo difficile come quello di Acerra. Sì, oggi abbiamo giocato contro una buona squadra, una squadra secondo me anche lei attrezzata per questo camionato, anche se oggi a loro mancava qualche pedina. Siamo bene, stiamo continuando il discorso che abbiamo preso durante il 2015, adesso speriamo di fare bene pure durante l'anno. Lo si era visto anche nelle amichevoli fatte durante le feste natalizie, in particolar modo quella di Afragola, la squadra era sul pezzo, voleva vincere e lo ha dimostrato subito, sin dai primi minuti. Sì, infatti noi in queste feste di Natale ci siamo preparati bene, abbiamo affrontato tutte le amichevoli che abbiamo fatto sempre con lo stesso spirito del campionato, proprio per non farci trovare impreparati su questa partita che abbiamo fatto oggi. La forza di questa squadra appare essere il gruppo, si è riuscito davvero a renderlo coeso e con un unico obiettivo che è appunto quello di vincere il campionato o comunque di fare quanto più bene possibile? No, noi ci siamo, diciamo dal mio arrivo, ci siamo prefissati di fare una classifica da soli, giochiamo, noi giochiamo da soli contro nessuno, noi dobbiamo solo fare quanto più punti possibile e poi alla fine tiriamo le somme e vediamo come siamo in campionato. Per quanto riguarda la forza di questa squadra è tutta, tifoseria, squadra, allenatore, dirigenti, voi stessi che venite con noi, noi siamo una sola cosa. Un'altra famiglia che domenica affronterà il Qualiano a San Mauro, nuova partita, terza ultima partita del giorno d'andata. Sì, noi affrontiamo il Qualiano come abbiamo affrontato la partita di oggi, tranquillo, cercando di fare il bottino pieno. Grazie a tutti.